Weekend di relax per Francesca e Valentina. Un weekend di sole donne, tranne il piccolo Edoardo. Edo, ciao! Ti piace questo hotel? È bello? Eh? Come chiacchieri, amore? Com'è andata la notte? Ti piace qua? Buongiorno, amore. Ma buongiorno? Buongiorno, buongiorno. Adesso quanti articoli fanno oggi che siamo alle tassime, io e te? Come una volta i poi, eh amore? Ma quindi siamo belli, io e te? Il piccolo Edo viene coccolato da tutti, ma specialmente dalla zia Valentina. Gli vuole veramente tanto, tanto bene. Pa, pa, da, pa, da, pa, pa, pa. Grazie a tutti.